Dopo la sconfitta ad Erice contro la Procori, l'Albaverde ritorna in campo nel primo match del 2023. Lo fa affrontando al palacanizzaro la capolista pallavolo Crotone, nella dodicesima giornata del girone di andata del campionato di serie B2-Girona M di Volley. Sarà una partita fondamentale per non perdere di vista l'avversario e per far sognare una piazza come quella di Caltanissetta, che gara dopo gara si sta innamorando di questa squadra che sta lottando per qualcosa di veramente grande. Dopo questo impegno, le pallavoliste dell'Albaverde, settimana prossima, incontreranno l'altra capolista zafferana, che insieme alla pallavolo Crotone sono prime in classifica. Ecco il quadro della dodicesima giornata. Funivia Etna Procori e Ricina Stefanese Volley Region Gioiosa Planet Albaverde Pallavolo Crotone Ardens Comiso Saracena Fidelis Torretta Brico City Cus Catania Zafferana F 더�bruari Fidelis tiro Pestla Giozilla Fumilia Grazie a tutti